Questo è il Simone Tomasini Podcast e quella che segue è una conversazione con Luca Nobili. Luca è un astronomo, collabora con il Planetario di Padova ed ha lavorato per 12 anni all'Istituto Nazionale di Astrofisica. Oltre a questo, Luca è un abilissimo divulgatore, come è possibile vedere dal suo canale YouTube Astrochiacchere, del quale trovate il link in descrizione. In questa conversazione parliamo di astronomia, di scienza e di fantascienza, andando ad unire quelle che sono due grandi qualità di Luca. Da un lato il suo grande rigore scientifico e dall'altro la sua altrettanto grande apertura mentale. Buon ascolto. Che cosa sono i buchi neri? Ah beh, partiamo subito con il botto, pensavo fosse nel gran finale. No, no, no. C'è da fare una piccola premessa, cerchiamo un po' di semplificare altrimenti non capiamo. Immaginiamo che lo spazio sia piatto, cioè immagina un telo, un telo elastico, quelli dove ci saltiamo sopra, ecco sul telo c'è tutto lo spazio. Che succede se sul telo ci metti qualcosa che ammassa? Che si piega? Si piega un po', si fa una piccola buca. Se ci metti la terra e ci ha messo una piuma, quindi è come se non ci avessi messo sopra quasi nulla, diciamo. Se cominciamo a metterci una stella super gigante e la terra è un puntino insignificante al confronto, cominciamo a ragionare come se hai messo un pallone da basket. Si crea una buca interessante. Però se tu prendi una stella e riesci a comprimerla, aumenta il peso. Cioè perché la massa è sempre la stessa, però diminuisce il volume che occupa quella massa, aumenta il peso, la buca diventa ancora più profonda. Ok, ok. Benissimo. Adesso arriviamo a come si forma realmente un buco nero. Ci sono due modi sostanzialmente. Il primo, una stella super gigante arriva alla fine della sua evoluzione e scoppia. Fanno una fine brutta e scoppiano, sono le super nove. Quindi una stella è una grande palla di gas incandescente, scoppiando butta fuori il suo gas, però il nucleo, il cuore della stella, sopravvive all'esplosione e ha un piccolo problema questo cuore di stella esplosa. Non produce più abbastanza energia da contrastare il suo stesso peso. Ok. E quindi per effetto del suo stesso peso comincia a fare questo. Si contrae. Quindi non ha più abbastanza energia per riuscire a reggere tutto il peso che ha. Perché l'energia prodotta al centro tende a spingere verso l'esterno. Ok. Il peso, l'autopeso della stella tende a comprimerla. Questa volta però non produce più abbastanza energia e quindi prende sopravvento il peso. Quindi un corpo celeste riesce a mantenere la sua dimensione per il fatto che da dentro c'è qualcosa che spingere verso l'esterno. Sì, nel caso delle stelle si chiama equilibrio idrostatico. Ok. Da una parte c'è energia emessa al centro che tendrebbe a far espandere la stella, dall'altra però il peso della stella stessa che tende a comprimerla. Si raggiunge un equilibrio e la stella rimane in equilibrio fin tanto che produce abbastanza energia. Ok. Quindi parliamo invece di un nucleo di stella esplosa che non riesce più a contrastare il suo stesso peso. Ok. Quindi immagina questo nucleo che potrebbe essere grande quanto la Terra. Sì. Che in millisecondi si comprime. In millisecondi? È l'implosione, il concetto di implosione. Sì, detto collasso. Esattamente. Collasso, ok. Detto collasso. Si comprime così e quindi tu hai una massa che occupa un volume di spazio sempre più piccolo. Sì. La buca corrispondente sul telo dello spazio diventa sempre più profonda. Sì. A un certo punto è talmente profonda questa buca, chiamiamo profondità, poi dopo magari chiediamo meglio il concetto. Sì. Che nulla può più uscirne, neanche la luce. Ok. Cioè, più che profondità dovrei parlare di deformazione dello spazio. Lo spazio si è talmente deformato, avvolto su se stesso, mettiamola così, che nulla può più uscire da quella deformazione, neanche la luce. Risultato che, se ragioniamo in termini di tutto piatto e tutto sopra un telo, io vedrei, tra virgolette, ho questa buca e a un certo punto vedo un cerchio tutto nero perché oltre quel cerchio nulla riesce più a fuoriuscire. Certo. In tre dimensioni diventa una sfera. Ok. Una palla tutta nera. Questo sarebbe un buco nero. Ok. Questo è un modo con cui si possono formare. Sì, sì. E quindi nel momento in cui questa stella implode, d'accordo, quindi diventa sempre più piccola, però allo stesso tempo mantenendo il suo peso? Mantenendo la massa. Mantenendo la massa. Tu devi immaginare che ci sono delle stelle supergiganti che esplodono come supernove, il nucleo comincia a collassare, però a un certo punto si ferma il collasso perché c'è un altro fenomeno che interviene. Praticamente gli elettroni, i neutroni anzi, si respingono tra loro e quindi questo respingimento fa sì che possano contrastare il collasso. Ok. E allora lì si forma una stella di neutroni. Ma se quel nucleo dovesse avere una massa superiore a un certo livello critico, neanche questa repulsione tra i neutroni ce la fa a contrastare il peso. Quindi si crea questo buco nero. Va avanti con l'asso. E il buco nero poi attrae le cose che sono vicine a lui? C'è un effetto di questo tipo? Sì, anche se c'è da fare un attimo un po' di chiarezza. Il buco nero deforma lo spazio circostante, anche il tempo, poi vedremo dopo. Quindi oggetti che vanno lì vicino vengono attratti dal buco nero, ma se hanno una loro velocità iniziale, non è detto che ci finiscano dentro, potrebbero semplicemente orbitarci attorno, come fanno i pianeti intorno al Sole. Ok, e continuare ad orbitare attorno. Sintanto che nulla li disturba, potrebbero andare lì avanti a orbitargli attorno. È chiaro che se un oggetto gli va più vicino o magari non aveva una sufficiente velocità di entrata, a quel punto a forza di girarci attorno poi ci finirà anche dentro. E cosa succede quando qualcosa entra dentro un buco nero? Viene schiacciato? Cosa succede? Beh, allora, in realtà non lo sappiamo. Cioè, la relatività, è stata la relatività di Einstein, siamo intorno al 1916, a predire l'esistenza dei bucchi neri. E poi ne abbiamo avuto subito, insomma, a distanza di un bel po' di tempo, sono nel 71 la prima evidenza che esistono realmente. Perché pensa che Einstein, insieme, neanche ci credeva, eh? Certo. Perché sembrava talmente assurdo, estremo questo caso. Il problema è che la relatività di Einstein, tu la applichi nei singoli punti di quel telo che ti dicevo prima. Sì. Se tu la vai a applicare dentro al punto che sta nel buco nero, cioè, da risultati senza senso. Ok. Quindi vuol dire che al momento la fisica attuale non ha una spiegazione di cosa accade realmente nel buco nero. La relatività dice, beh, tutto quello che entra nel buco nero viene compresso, perché la forza di attrazione è talmente forte che potrà entrare anche Superman, viene compresso, sino a diventare un punto. Ok. E questo punto è detto singolarità. Quindi tutto quello che entra in un buco nero andrebbe a far parte di questo punto. Però nel momento in cui io applico le formule della relatività in quel punto, ci danno risultati tipo massa infinita, energia infinita, che non vogliono dire nulla. Ok. E quindi vuol dire che abbiamo ancora da capire. Wow. Ma è singolarità, diventa un punto e questo punto si chiama singolarità. Quindi la singolarità, che cos'è? Un punto inteso? Anche quella stella, quel nucleo di stella che è collassata, l'anno vita al buco nero, quello va avanti a collassare, sino a diventare un punto, che è appunto la singolarità. E tutto quello che entra nel buco nero viene compresso sino a far parte di questo punto, sino a finire in quel punto. E quanto grande è questo punto? Questo è il problema. Un punto in realtà è un ente astratto. Certo. Non ha una reale estensione fisica. Ecco perché non ha... È infinitamente piccolo, può essere? Sì, però il problema è che non puoi parlare di un'estensione fisica per quanto piccola. E quindi l'unico modo per avere delle risposte sarebbe ragionare a livello microscopico quantistico, cioè con la meccanica quantistica. La meccanica quantistica sarebbe la fisica delle particelle subatomiche. La fisica delle cose piccolissime. Dove accadono cose che fortunatamente, o sfortunatamente, se accadesse a livello macroscopico sarebbero considerati fenomeni paranormali. Certo, è vero. Però a livello microscopico accadono. Il problema è che la quantistica non va d'accordo con la relatività. Manca la cosiddetta teoria del tutto, no? Esatto, manca quella fisica più completa che le metta, le faccia andare d'accordo e allora lì forse potremmo spiegare almeno a livello teorico cosa accade nel buco. Certo, diciamo che, e correggimi se sbaglio, noi abbiamo un modello che riesce ad essere predittivo per quello che riguarda la fisica delle grandi cose, un modello che riesce ad essere predittivo per quello che riguarda la fisica delle cose piccolissime, di quanti appunto, manca però quello che accade nelle cose piccolissime è inspiegabile visto dal punto di vista della fisica delle cose grandi. Esattamente, questo è il grande problema, anche perché ciò che accade in quantistica, nelle cose piccolissime, c'è proprio un limite, no? Sono i vari limiti di Planck, uno dei grandi fisici che ha studiato queste cose, che in realtà sono comunque dei valori molto microscopici, come livello di grandezza. Sopra quel valore di lunghezza, di distanze o altro, la quantistica cessa. Entriamo nel regno del macroscopico. Perché? Perché iniziano a esserci le perturbazioni delle altre particelle vicino, per cui praticamente si entra nel macroscopico, però è un limite piccolissimo. Quindi che vuol dire? Vuol dire che la quantistica non possiamo applicarla al dito o alla mano, la devo applicare neanche all'atomo, sotto l'atomo. Ancora più, nel tuo canale Astrochiacchere, che è un canale meraviglioso e consiglio a tutti di guardare, hai fatto un video bellissimo su Interstellar, con il quale appunto spieghi come... Perché in Interstellar c'è la scena nella quale il protagonista, che non ricordo come si chiama, entra, Cooper, esatto, entra all'interno del buco nero. Ora, se ricordo correttamente quello che succede in Interstellar, lui entra dentro questo buco nero e che cosa succede? Che entra in una sorta di universo parallelo? Che cosa succede in Interstellar e quanto questa teoria, diciamo, è qualcosa di potenzialmente reale? Cioè potrebbe essere che accada quello che accade in Interstellar e che cosa accade in Interstellar? Sì, allora lì entra in un buco nero gigante, in questo caso i buco neri giganti si formano al centro delle galassie, delle grandi galassie, dove si fondono centinaia di stelle. Quindi si formano in modo diverso rispetto ai buco neri di prima che sono detti stellari. Si fondono centinaia di stelle e si crea un buco nero enorme, gigantesco, può avere le dimensioni del nostro sistema solare, tanto per capirci. Ecco, Cooper entra lì dentro. Allora, Interstellar, premessa, nasce da un'idea di Kip Thorna, che nel 2017 vinse anche il premio Nobel per la fisica, che voleva fare un film, sì di fantascienza, ma basato su teorie fisiche e reali. Ok, quindi nasce da un fisico. Sì, con Nolan che poi ci mette un po' in mano, ma torno e gli ha detto, senti Nolan, ma ci piano perché io devo sempre dire, ok, mi sta bene, cioè non dobbiamo andare troppo oltre quella fantasia, a parte un paio di compromessi, il resto è tutto scientificamente possibile. Attenzione, perché le teorie fisiche anche alternative a quello di prima, la singolarità chiusa, ci sono, la teoria del cunico, lo spazio temporale, ad esempio, è alternativa a singolarità chiusa, sulla carta funzionano, ma non è detto che poi la natura vada davvero così. Certo. Quindi in Interstellar ci sono alcune di queste teorie. Una di queste teorie, se vuoi la spieghiamo adesso... Certo, vai. Allora, cosa ti ricordi quando Cooper entra nel buco nero? Cosa vede? Cosa succede? Allora, io ricordo che ad un certo punto lui si trova in un luogo dove lui vede, vede moltiplicate le stanze nelle quali... della figlia, no? La stanza vede come se vedesse, non so se vedesse tutti, tanti universi possibili e tanti scenari possibili, però c'è questo momento, che per me è stato di grande confusione, dove lui è come se, diciamo, navigasse all'interno di questo spazio che faccio veramente fatica anche a definirlo. Ci sei quasi, hai intuito un po'. Allora, c'è una teoria che dice che dentro a un buco nero spazio e tempo si invertono. Ovvero, nella vita di tutti i giorni noi ci muoviamo in uno spazio tridimensionale, no? Sì. E io posso muovermi... Dove è la telecamera? Lì, ciao, salutiamo anche chi ci segue. Ci sarei seguendo ancora? Sì, dai, non sono concetti difficili, un po' di attenzione, dai. Allora, io posso muovermi liberamente, vado così, alto, avanti, se non c'è niente che mi ostacola. Ma nel tempo siamo liberi? No. No, noi possiamo andare solo in una direzione. Al passato e verso il futuro. Sì. Secondo questa teoria si inverte nel buco nero il discorso, cioè siamo bloccati in un punto dello spazio che sarebbe la singolarità. Sì. Ma in compenso vediamo tutti gli istanti di tempo. Ok, quindi siamo al di fuori del tempo. Possiamo muoverci liberamente avanti e indietro nel tempo. Ok. Però bloccati in quel punto, la singolarità. Nel film cosa si ipotizza, o meglio, cosa dice Thorne insieme a Nolan? Che dentro a Gargantua, quel buco nero gigantesco, gli uomini del futuro, facciamo lo spoiler, ma diamo per scontato che l'avete visto il film. Sì, chi non l'avesse visto, spoiler alert, andate avanti di dieci minuti se non l'avete ancora visto e volete vedere. Che gli uomini del futuro che hanno praticamente, stanno cercando di aiutare gli uomini del passato, dentro a quel buco nero gigante hanno messo un costrutto. Questo costrutto a cosa serve? A bloccare Cooper sì in un punto dello spazio, ma non la singolarità del buco nero, un altro punto dello spazio. Ovvero, e qui l'avevi capito anche tu, lui è bloccato dietro la libreria di casa sua. Ok, sì. Però in compenso vede tutti gli istanti di tempo. Quindi può vedere, li vede se stesso con la figlia piccola, li vede la figlia più grande quando se ne va via, però li è bloccato lì. Ok. Quei tubi, non so se possiamo fare, magari faccio io, non so se ricordate la scena, se si può mettere magari per un fermo immagine, magari si può recuperare. Sì, anche se vuoi vedere una foto la possiamo recuperare. Sì, sì, la recuperiamo, proprio Cooper dentro al buco nero a gargantua. Sembra quasi che sia dentro un quadro di quelli, di prospettive impossibili, anzi è voluta la cosa. Vediamo un po'. Vede tante strisce, come fossero dei tubi. Metterei intercelebre, ecco Cooper dentro al buco nero, vediamo un po'. Stiamo facendo tutto live. Ecco qui, che bello, guarda che bello. Mettila pure grande con l'immagine. Sì, 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 perfetto. Tutte quelle strisce sono i libri della libreria. Cioè ti immagini uno scaffale, eccola lì, perfetto. Ok, quelli sono tutti i libri della libreria. Nei vari istanti di tempo. Ok. Cioè se tu fai, prendi, mettiamo tutte quelle strisce che vedi in, dove sono qua, sì, come vuoi, in orizzontale, in verticale, quelli che vuoi te, e fai un taglio, cioè prendi. Si vede il dorso del libro, si vedrebbe. Esatto, è come, tu immagini i libri, guarda se vuoi torniamo un attimo con l'immagine in diretta. No, no, siamo già in diretta, siamo sempre loro. Perfetto, mi vedete sempre, grazie. Sì, sì, sì. Così sono i libri, su uno degli scaffali, che sono un libro. Nei vari istanti di tempo, cosa fa questo libro? Ancora, libro, 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 diventa una strisce. Ok. Quindi ognuna di quelle strisce è uno dei libri che sta su uno degli scaffali, nei vari istanti di tempo. Ok. Quindi lui può muoversi, nel muoversi in quello che tutti sembra andare avanti e indietro nello spazio, in realtà si sta muovendo nel tempo, quando lui si muove lì dentro. Ok. Ma è bloccato sempre nello stesso punto, dietro quella libreria. Ok. E come mai è finito proprio dietro quella libreria? Ce l'hanno messo apposta, perché gli uomini del futuro ce l'hanno messo apposta, in maniera tale che lui prima possa comunicare, chiudere il cerchio e comunicare, ad esempio, le coordinate della base. Giusto. Ecco, sì, giusto. Dove vanno a finire. Ok, ok. Non solo, c'è un'altra cosa, possa comunicare la soluzione della formula dell'antigravità, che serva, chissà, sulla Terra, per poter costruire un'astronave gigantesca, dove mettere l'intera umanità e spedirla sull'altro pianeta. Quindi... L'antigravità serve per poterla mandare in orbita nello spazio con l'astronave gigantesca. Certo. Il problema è che per trovare questa formula bisogna mettere d'accordo quantistica e relatività. Ok. E quindi, chiudiamo finalmente il discorso, che bello sarebbe capire cosa accade dentro a un buco nero, perché se lo capiamo, abbiamo messo d'accordo le due teorie, abbiamo anche la formula dell'antigravità. Ok. E nel film quello che succedeva era che gli uomini dal futuro davano queste informazioni per far sì che le persone dal passato riuscissero a... Infatti nel film Cooper nel buco nero si finisce con il robot Tarts. Sì. E Tarts dice, Cooper, ma sai che c'è una novità? Io vedo cosa succede dentro al buco nero. Posso comunicarti i dati e se tu riesci a comunicarli a Terra, abbiamo risolto tutti i problemi. Ok. E quindi Cooper poi, con lo stratagemma dell'orologio, comunicherà alla figlia questi dati. C'è un messaggio in Interstellar, scusami se mi prolungo. Vai, vai. Noi facciamo uno speciale al planetario di Pado su Interstellar, ed è il finale del nostro speciale, questo. C'è un messaggio che sfugge a molti. Cooper comunica questi dati alla figlia tramite l'orologio, se ricordate bene, che aveva donato alla figlia prima di partire, che la figlia però aveva abbandonato sullo scaffale della libreria perché è offesa dal fatto che il padre l'avesse lasciata sola. Cooper comincia a comunicare i dati e Tarts, il robot gli dice, aspetta un attimo, e chi ti dice che tua figlia tornerà a prendere quell'orologio, accorgendosi quindi che tu, muovendo le lancette dell'orologio, gli stai comunicando i dati? Chi te lo garantisce? Era arrabbiata con te? Cooper potrebbe andare a vedere gli istanti futuri, no? Ma non lo fa. Non ne ha bisogno. Perché dice? L'amore. Perché l'amore, e questo è il messaggio nascosto del film, è una forza quantificabile come lo è l'elettromagnetismo, come lo è la gravità, e perché l'amore, come la gravità, secondo la teoria, una delle teorie, trascende spazio e tempo. E quindi lui non ha bisogno di andare a verificare. Wow, bellissimo. Questo è il messaggio del film. È bellissimo. È bellissimo e il tema dell'amore torna in Interstellar, mi viene in mente il momento in cui, il momento finale, no? Quando la figlia dice, io sapevo che saresti tornato, perché? Perché me l'aveva detto mio papà. Mio papà mi ha detto che è fantastico. L'amore è una forza fisica. Esatto. L'amore è una forza fisica, che trascende spazio e tempo. Meraviglioso. Visto che abbiamo toccato il tema, quindi abbiamo delle persone dal futuro che vogliono aiutare delle persone nel passato. Qua subentra il tema di paradossi spazio-temporali, no? Nel senso che cosa succede? Che si crea un futuro alternativo, così facendo, nel quale appunto la storia umana prende una direzione diversa? Oppure assomiglia più a quello che succedeva, se non ricordo male, in ritorno al futuro, dove tu, modificando quello che succedeva nel passato, poi tornavi al tuo presente e il tuo presente lo vedevi modificato? No, qui c'è più un'idea di circolarità del tempo, che è un concetto più orientale che occidentale, no? Ok. Sì, quello del ritorno al futuro è il concetto occidentale, cioè se io modifico il passato, do vita a una linea parallela dove le cose sono cambiate. Ok. E quindi quando poi ritorno nel futuro, in realtà non ritorno più nel mio futuro, ma rimango nel futuro dove ci sono state quelle modifiche in pratica. Il concetto invece orientale di tempo circolare è tutto un cerchio che si chiude su se stesso. Quindi qui doveva andare così. Ok. E andrà avanti, cioè qualsiasi cosa, ma doveva accadere questo. Ok. Quindi non c'è l'idea dei futuri alternativi, dei multiversi, quello che adesso va tanto di moda nei film, soprattutto dei supereroi, no? Certo. È quello il percorso. E attualmente da un punto di vista, diciamo, scientifico, è più, viene più accettata l'idea del multiverso o l'idea di questo cerchio, appunto? È una bella lotta, eh? È una lotta, non è chiaro. Allora, quella del multiverso, tra l'altro, che adesso lo chiamiamo così, poi in realtà aveva altri termini, universi, linee temporali, alternative e così via. Sai quando viene fuori, soprattutto, con un ricercatore Everett che voleva risolvere il paradosso del gatto di Schrödinger? Adesso, chi ci segue magari... E spieghiamolo che cos'è. Dobbiamo spiegarlo. E torniamo alla meccanica quantistica, i cosiddetti fenomeni paranormali della meccanica quantistica, che poi paranormali non sono scienza, ma microscopica. È scienza che però sfugge alla nostra comprensione della realtà, no? Praticamente, a livello microscopico, alcune particelle, come ad esempio elettroni, protoni, non occupano un vero punto. Cioè non sono dei punti che occupano lo spazio. Sono delle probabilità. Cioè io ho una certa probabilità che l'elettrone si trovi qui, qui, un po' più alta la probabilità che sia qui, un po' più bassa che sia qui. Fintanto che io non vado a cercarlo con l'elettrone, sta in tutti quei punti contemporaneamente. È solo quando faccio la misura che si decide dove vuole mettersi. Più probabilmente sarà qui, ma non è escluso che sia anche qui. Da qui l'idea che l'osservazione di un fenomeno contribuisce a plasmare la realtà. Allora Schrödinger, che per quanto fu uno dei pionieri della quantistica, però aveva molti dubbi, giustamente, fece questo paradosso. Come dire, però, insomma, se le cose vanno così. Prendiamo un gatto, un povero gatto che sta dentro una scatola. Dentro la scatola c'è una fiala di veleno. Se si rompe il gatto è stecchito. Che succede? Se fosse vera questa cosa, diceva lui, fintanto che io non vada a osservare, cioè a vedere se la fiala si è rotta oppure no, sarebbero vere entrambe le cose, no? Se io dico che la particella sta contemporaneamente in tutti i punti, fintanto che non vada a cercarla, allora la fiala sarebbe sia rotta che non rotta nello stesso tempo. Quindi il gatto sarebbe vivo e non vivo nello stesso tempo. Sembrava un paradosso. Sì, perché ragioniamo a livello macroscopico. A livello macroscopico sarebbe un paradosso. Infatti queste cose non accadono. Tant'è che una persona direbbe il gatto è quello che è. Semplicemente il fatto che sia dentro la scatola chiusa tu non lo vedi, ma lui è o vivo o morto. Non è tutte e due le cose contemporaneamente. Secondo la visione classica. Qualcuno dice, ma il gatto saprà pur bene se è vivo o morto. Però la meccanica quantistica funziona con... Però a livello macroscopico invece funziona questo ragionamento. Arriva questo ricercatore, mi sembra che fu la tesi di dottorato, siamo negli anni 50, fine anni 50, e lui formulò un'ipotesi alternativa. disse, però forse in realtà si potrebbe risolvere la cosa non, come ho appena detto io, semplicemente linee, universi paralleli. In un universo il gatto è vivo, in un altro il gatto è morto. Sono vere entrambe le cose. Quindi possono coesistere entrambe le cose. Noi, quando apro la scatola, non è che io determino il fatto che la fiala si sia rotta o meno. Semplicemente io vivo in uno dei due universi. Quando apro la scatola capisco in quale universo dei due sto. E quindi, siccome questo lo devi applicare a ogni singola particella, a questo punto, questo ragionamento, vuol dire che abbiamo infiniti universi, tutti coesistenti. Noi viviamo in uno di questi infiniti universi. Che l'idea dell'infiniti, il numero infinito universi, solleva tutta una serie di problematiche, perché si rischia di scivolare veramente in qualcosa che per noi è assurdo. È un po' come, non so, sconosci Ricca e Morti, la serie tv. No, questa è una serie tv particolare, molto strana, molto bizzarra. Perché se esiste un numero infinito di universi paralleli, vuol dire che qualsiasi universo io riesco a partorire con la mia mente, esiste. Perché se esiste infinite cose, cioè potrebbe esistere un universo, proprio per fare qualche esempio assurdo, che però richiama appunto questa serie tv di Ricca e Morti, potrebbe esistere un universo nel quale gli esseri umani sono delle spugne. E in questo momento ci sono, in quell'universo ci sono due spugne che stanno parlando, una spugna che si chiama Simone e una spugna che si chiama Luca. Per dire la prima cosa assurda che mi viene in mente. Esattamente, c'è un universo dove io non sono uomo, sono donna. Un altro dove ho un pelo di barba in più. Certo. Oppure un millimetro più corto quel pelo e così via. Un altro nel quale, che è identico a questo universo, però in questo momento invece di utilizzare una parola non utilizza un altro. Cioè è infinito. Quindi qualsiasi cosa, tutto è sul tavolo. Esatto, sì. Tutto è sul tavolo. Sì. Wow, pazzesco. E tu personalmente ti senti più orientato verso l'una ipotesi o l'altra? No, nessuna. Nel senso che anche io non riesco a farmi un'opinione su questo. Cioè sono bellissime tutte le ipotesi, affascinanti, anche un po' fanno un po' paura anche se ci pensiamo e quindi non riesco ancora ad avere un'idea precisa. Ok, ascolta. Quanto grande è l'universo? Allora, in realtà è finito, ma ci sembra infinito. Perché anche qui possiamo fare, immagino un palloncino, fanno un esempio, un palloncino, la superficie di quel palloncino sarebbe il telo elastico dello spazio che ti dicevo prima. Sì. Quindi noi viviamo sulla superficie del palloncino. Attenzione, lo spazio è definito su quella superficie, quindi non possiamo chiederci cosa c'è dentro e fuori dal palloncino perché lo spazio non è definito dentro e fuori. Quindi noi dobbiamo solo ragionare sulla superficie di quel palloncino. Bene. Che succede se gonfiamo il palloncino? Lo spazio si sta allargando, la superficie si allarga. Sì. Vogliamo fare il giro dell'universo? Tornare al punto di partenza? Bene. Il problema è che però nel frattempo si sta allargando. Anzi, sappiamo dagli anni 90 che questa espansione va anche sempre più veloce. Quindi si allarga sempre più velocemente. Quindi noi non ce la fermo mai a ritornare al punto di partenza, per quanto rapidi siamo. e quindi ci sembra infinito l'universo. Ma immaginiamo che io abbia un'astronave. Questo è un dubbio che mi porta avanti fino a quando sono bambino. Quindi forse adesso riuscirai a sciogliere un dubbio della mia infanzia. Allora, immagina se io ho un missile, un'astronave, parto dal pianeta Terra e questa astronave ha infinito carburante e io sono un essere eterno, cioè che non muore mai. E con quest'astronave vado sempre in alto, in alto, in alto e continuo ad andare dritto. Cosa succede? Che a un certo punto ritorno al punto di partenza? No, appunto, proprio quello che ti dicevo io, non ce la fai perché nel frattempo lo spazio si allarga sempre di più. E se io riuscissi a viaggiare più veloce dell'allargamento E questo è il problema. Dovresti andare più veloce della luce. Perché c'è il limite che è la velocità della luce. Cioè sul telo dello spazio, sulla superficie del palloncino, è la massima velocità possibile. Perché? Dici, perché? Allora, perché si aveva quel valore lì? Questo è da capire. Perché si aveva 300.000 km al secondo la velocità della luce. Però sappiamo il perché noi non possiamo raggiungerla. Perché abbiamo massa. La massa, la massa la puoi vedere come una resistenza di un corpo a cambiamenti di velocità. Cioè, se tu hai una certa massa, ti do una spinta, tu vai un po' più veloce. Sì. Però mi opponi una resistenza a quella spinta dovuta proprio alla tua massa. Non è che se un corpo più è massiccio, più fatica faccio io a farlo muovere, no? Ecco, la relatività, tra le varie formule venute fuori, dice che la massa di un corpo aumenta all'aumentare della sua velocità. Che vuol dire che aumenta? Non che guadagno materie. Attenzione, questo ci cascano, ma anche molti studenti. In relatività, la massa relativistica è la resistenza alla variazione di velocità. Non è quindi che mi aumento di materia. Semplicemente, più vado veloce, più oppongo resistenza al successivo, per quanto piccolo aumento o grande spinta che tu mi dai, aumento di velocità. Arrivati a velocità prossima a quelle della luce, la mia massa oppone una resistenza tendente all'infinito a qualsiasi spinta riceva. Quindi niente di ciò che è composto da materia può viaggiare più veloce della luce. Non può neanche raggiungerla, ci si può avvicinare indefinitamente ma senza mai raggiungerla perché man mano che mi avvicino al valore della velocità della luce la massa relativistica tende all'infinito, cioè oppone una resistenza tendente all'infinito. Quindi solo ciò che non ha massa come le particelle di luce possono viaggiare esattamente a velocità della luce. Ok. Una possibile modo di viaggiare eludendo i limiti della velocità della luce mi sembra poter essere quello dei cosiddetti wormhole o non so in italiano come si traducano i cunicoli. Che cosa sono e qual è la possibilità esiste almeno teoricamente la possibilità che possono esistere? Sì, magari possiamo anche qui cercare un'immagine da mettere. È una delle teorie alternative alla singolarità chiusa con la quale abbiamo parlato sino ad ora. Quindi si ragiona sempre sul telo dello spazio immaginando appunto eccolo qui va bene anche quell'immagine perfetto benissimo. Allora questa specie di griglia che stiamo vedendo sarebbe lo spazio il telo dello spazio. Secondo la teoria del cunicolo se io riesco a entrare se ce la faccio in un buco nero mettiamo che sia quello in alto il buco nero sì in realtà non finisco nella singolarità nel punto perché vedi che è aperto non è chiuso vado oltre e mi ritrovo dall'altra parte buttato fuori dall'altra parte quindi sarebbe una scorciatoia nello spazio potrei trovarmi dall'altra parte della galassia dell'universo sulla carta funziona ma ci sono due limiti primo limite il buco di uscita non è più un buco nero il buco nero attrae dovrebbe essere un buco bianco ovvero un buco che invece di attrarre ti permette di uscire fuori che sputa fuori ciò che c'era dentro in sostanza e il problema è che non abbiamo nessuna evidenza che esistano i buchi bianchi ok che è strano tra l'altro perché troviamo tanti buchi neri e neanche un buco bianco che sarebbe più facile da individuare tra l'altro proprio perché emette invece di attrarre quindi sembra che non esistano nell'universo i buchi bianchi sembra ok l'altro problema grosso è che in realtà il cunicolo si chiude subito quindi non ci passa nulla attraverso perché si richiude all'istante ok a meno che non ci sia non esista un'energia repulsiva quella di interstella sì che lo possa tenere aperto però al momento non vuol dire nulla energia repulsiva energia negativa quindi siamo al punto di partenza quindi rimane solo teorico il cunicolo ok quindi se capisco bene il cunicolo è qualcosa che a livello puramente teorico potrebbe funzionare non abbiamo nessuna evidenza scientifica ma a livello puramente teorico potrebbe funzionare potrebbe funzionare se riuscissimo a superare questi due grossi limiti cioè riuscire a tenerlo aperto sì e che esista la via d'uscita cioè il buco bianco ok e qua mi collego ad uno di quelli che è gli elementi più classici delle diverse storie di fantascienza ti piace la fantascienza? sì sì ok uno dei classici elementi insomma del fantascientifico è il fatto di una civiltà che riesce a creare un device uno strumento una tecnologia per poter manipolare la gravità e quindi manipolare di conseguenza di conseguenza lo spazio-tempo ora a livello puramente teorico questo potrebbe dar vita a dei viaggi mediante questi tunnel cioè un altro modo di porre la domanda è questo essendo che immaginiamo una civiltà aliena che viva a miliardi di anni luce di distanza da dove viviamo noi potrebbe questa ipotetica civiltà se riuscisse a creare una tecnologia che manipola la gravità potrebbe questa civiltà riuscire a viaggiare e raggiungere ad esempio il nostro pianeta senza impiegarci tutti quei miliardi di anni sì se fosse possibile riuscire addirittura a costruire dei cunicoli artificiali in interstellar chi torna dice io ce li metto artificiali costruiti dagli uomini del futuro perché sulla carta potrebbero funzionare quindi fisicamente esiste questa teoria poi è tutto da vedere se sarà mai possibile ma anche se esistono davvero i cunicoli mettiamo possiamo ragionare come in termini fantascientifici assolutamente sì potrebbe essere uno dei modi per superare il problema delle grandi distanze perché in pochi secondi in pochi minuti in poche ore potrei trovarmi proprio dall'altra parte dell'universo addirittura certo o forse in altri universi perché c'è una teoria che dice beh i buchi bianchi noi non ce li abbiamo però magari esistono universi pieni di buchi bianchi quindi noi entriamo in un buco nero del nostro universo e ci ritroviamo in un altro universo wow il problema è che se non abbiamo buchi bianchi noi non si torna indietro chiaro perché se non ce l'abbiamo rimani lì però tanto e ipoteticamente sempre ragionando per ipotesi molto fantascientifiche se noi fossimo in grado di governare una tecnologia di questo tipo ed esistessero gli universi paralleli noi potremmo utilizzarla per spostarci in qualsiasi punto della realtà possibile immaginabile a quel punto veramente tutte le regole se riuscissimo poi anche a trovare il modo di creare i buchi bianchi non ci sarebbe neanche più problema del ritorno perché ce lo apriamo noi artificialmente tornando alla domanda che ci siamo fatti prima quindi io ti ho chiesto quanto grande è l'universo tu giustamente mi hai detto intanto partiamo quindi a dire che l'universo non è infinito appunto hai fatto la metafora del palloncino però è molto grande è estremamente grande è più grande rispetto a quella che è la nostra capacità probabilmente di comprendere quanto grande è leggevo un articolo pubblicato su The Planetary Society che diceva che faceva vedere un'immagine una fotografia fatta dal telescopio come si chiama qui in orbita il James Webb ok facciamo vedere questa fotografia e dicevano in questa fotografia si vedono 5.000 galassie una galassia mediamente ha quanti pianeti ha al suo interno dai 50 miliardi ai 150 miliardi in grosso modo una galassia e dicevano quindi una foto nella quale si vedono 5.000 galassie ogni galassia più o meno ha una media di 50 miliardi di pianeti se vogliamo stare bassi con i numeri e dicevano per capire quanta parte di spazio del cielo stellato che tu guardi occupa quell'immagine lì immagina di mettere un granello di sabbia sulla punta dell'indice di tenerlo a un metro di distanza di guardare quel granello di sabbia lì quelle 5.000 galassie lì stanno dietro quel granello di sabbia lì che per me è inconcepibile è inconcepibile quanto grande sia l'universo cioè tu immagina quindi ecco io guardando queste 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 cifre qua la prima cosa che mi viene da dire e volevo vedere però se concordi a me la prima cosa che viene da dire è ma è molto più probabile che esistano gli alieni da qualche parte piuttosto che non esistano allora noi siamo allora che l'idea che ci siano altre altre forme di vita complesse intelligenti questo ce l'abbiamo dal 1800 in particolare nasce questa idea con i marziani e così via diciamo che ancora negli anni 80 pur avendo tutto sommato la certezza che ci fossero altri pianeti intorno ad altre stelle però qualche astronomo ancora diceva ma sapete che se anche ci sono devono essere molto pochi invece adesso siamo arrivati alla conclusione che ora con le nuove tecnologie che ci sono forse c'è più pianeti che stelle addirittura ok quindi tu dicevi prima 50 miliardi di pianeti in una galassia al ribasso sì la nostra galassia ha circa 200 miliardi di stelle e quindi i pianeti probabilmente saranno doppio il triplo quindi figurati una cifra che non riusciamo neanche a concepire esatto queste sono grazie alle scoperte fatte negli ultimi 20-30 anni quindi a questo punto siccome esiste anche la statistica quella seria però è una statistica quella è la statistica che dice che c'è una quasi certezza che ci siano pianeti simili alla terra e quindi una quasi certezza che ci siano anche altre forme di vita e quindi a questo punto anche complesse evolute wow pazzesco che potrebbero avere milioni di anni di di età cioè nel senso noi voglio dire siamo veramente nati ieri rispetto anche alle nostre capacità di creare un metodo scientifico di comprendere il mondo potrebbero essere potrebbero esserci civiltà là fuori che sono 10 milioni di anni più avanzate rispetto a noi 20 milioni di anni più avanzate rispetto a noi assolutamente sì pazzesco fantastico che cos'è la materia oscura la materia oscura allora è materia della quale non sappiamo ancora bene la vera natura per questo oscura ecco parentesi il termine dark dark energy dark matter the dark side of the moon lo traduciamo male oscuro ci fa pensare a qualcosa che sia buio no vuol dire nascosto non ancora chiaro ecco ok quindi materia oscura allora noi conosciamo le galassie no pianeti stelle buchi neri si trovano in questi enormi insiemi che sono le galassie noi siamo in una galassia che è la galattia poi abbiamo una vicina vicina tra virgolette galassie di andromeda e ce ne sono a miliardi di altre galassie andando a vedere come si muovono le galassie anche come le galassie immaginiamole come anzi no ruotano intorno al loro centro ci si è accorti che le zone più esterne delle galassie hanno un movimento che non è esattamente quello previsto dalle leggi della fisica vuol dire che c'è qualche cosa che ammassa all'esterno delle galassie e tra le galassie che quindi crea queste perturbazioni nel movimento cosa sarà questo qualcosa anzitutto deve essere bello espanso diffuso anzi deve essere bello diffuso e deve essere qualcosa che non emette luce non emette radiazione altrimenti l'avremmo già visto quindi cosa può essere allora ipotesi quelle più suggestive tanti buchi neri sparpagliati però insomma un po' improbabile più probabile che sia un mare di particelle un mare di particelle che si trovano appunto ai confini delle galassie tra le galassie che magari singolarmente non sono nulla però prese nel loro insieme cominciano a dare un'influenza gravitazionale importante causando queste perturbazioni il problema è che le particelle quelle che conosciamo con le loro masse facendo i conti non ci portano ad arrivare all'osservazione a quello che prendiamo a osservare e allora si è ipotizzato che si tratta di particelle esotiche cioè particelle che magari la cui natura non è ancora ben chiara che magari dobbiamo ancora scoprire forse l'abbiamo anche scoperta ma non abbiamo ancora misurato bene la loro massa una delle due oppure anche entrambe le cose quindi per quello si chiama materia oscura ok cioè oscura nel senso che non sappiamo che cosa sappiamo che c'è un qualcosa un qualche tipo di materia che ha un qualche tipo di effetto esatto su ciò che la circonda ma non sappiamo che cosa sia esatto ma potrebbe essere qualcosa di invisibile che è invisibile nel senso cioè è solamente invisibile dei nostri occhi cioè immaginando sempre l'ipotetica astronave che passa in quella zona lì cosa succederebbe cioè si schianterebbe contro qualcosa no 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 perché le distanze anche dalle particelle sono grandi sono ovunque microscopiche non ce ne accorgeremmo però perché noi dobbiamo ragionare sempre sul grande su grande scala no tu a livello qui della nostra stanza abbiamo le particelle molecole d'aria no non è che ci ci schiantiamo però hanno una loro massa se però cominciamo a ragionare prendendo non più questa stanza ma tutti l'intorno di una galassia e sommiamo ognuna di queste molecole e cominciano ad avere una loro influenza gravitazionale anch'esse nel loro insieme chiaramente non ce l'hanno su di noi nel piccolo ce l'hanno sul grande ecco qui ragioniamo a livello macroscopico estremo è l'opposto della meccanica quantistica cioè quando cominciamo a ragionare su grandi scale di spazio iniziano a subentrare questi fenomeni quindi particelle che nel piccolo e per piccolo intendo il sistema solare o anche solo la nostra galassia è comunque piccolo non hanno nessuna influenza cominciamo a ragionare su spazio distanze più ampie cominciano a farsi sentire ok nel momento in cui abbiamo mi hai descritto l'universo mi hai fatto la metafora del palloncino la me è da non esperti in materia però in maniera diciamo intuitiva la prima domanda che mi viene da fare è che cosa c'è oltre al palloncino sì quindi non dobbiamo sì esatto non dobbiamo più ragionare in termini di spazio almeno lo spazio come lo conosciamo perché lo spazio è definito solo sulla superficie del palloncino sì quindi non esiste come è un controsenso no? cioè che spazio c'è al di fuori dello spazio quindi non avrebbe senso questa domanda però potremmo ragionare in termini di dimensioni potrebbero esserci delle dimensioni spaziali sì non percepibili dall'uomo sì all'interno delle quali il palloncino effettivamente si espande lo sto semplificando molto adesso il discorso certo sia chiaro certo quindi mi perdonino magari se qualche fisico matematico mi ascolta insomma penso possa le comprendere allora potrebbe essere che in effetti ci siano delle dimensioni spaziali non percepite dall'uomo quindi questa espansione l'espansione dello spazio avviene in queste ulteriori dimensioni dimensioni macroscopiche cioè se io fossi grande quanto l'interno universo comincerei a percepirla l'esistenza di questa ulteriore o ulteriori dimensioni spaziali ma dovrei essere grande quanto l'universo ok è possibile quindi ipotizzare che ci siano altre dimensioni oltre alla terza dimensione sì ok una volta ho letto un esempio che raccontava di come noi siamo esseri tridimensionali la nostra ombra che viene proiettata di fatto è noi stessi però proiettati sulla superficie a due dimensioni esatto mettiamola così una creatura che vivesse in una superficie a due dimensioni non vedrebbe la mia ombra vedrebbe qualcosa che per lei è inspiegabile sì Flatlandia fu un libro famoso anche che introdusse o comunque fece diffondere questa teoria tra l'altro a livello microscopico ci sono delle dimensioni spaziali che vengono utilizzate per spiegare dei fenomeni microscopici la teoria delle stringhe ne fa uso ad esempio perché altrimenti non tornerebbero le cose quindi ci sono delle teorie che dicono sì a livello microscopico ci sono dimensioni spaziali ma devi essere piccolo come un elettrone per renderti conto che esistono quelle dimensioni spaziali tra l'altro proprio su Flatlandia c'è una cosa che se vuoi dopo ne parliamo io trovo una riflessione così diamo anche un po' di suggestione no per semplificare il discorso come dicevi te possiamo immaginare che noi siamo piatti viviamo sulla superficie di un foglio quindi io vivo su questa superficie mi muovo liberamente qui ma non posso muovermi qui non posso andare qui non posso proprio percepire queste cose però potrebbero esistere degli esseri Dio Dio potrebbe essere un essere superiore non deve essere per forza il Dio quello che magari pensiamo no e che invece vivono in queste ulteriori dimensioni e loro qui vedrebbero tutto vedono tutto lo spazio e vedono tutto il tempo certo sarebbero onniscienti onniscienti rispetto a noi certo attenzione vedono tutto prima cosa che ti dico e che dico come spunto di riflessione seconda cosa sempre in questi libri di divulgazione si fa un altro esempio mettiamo che l'essere che vive al di fuori abbia una mano come la nostra e la mette così io cosa io che vivo qui cosa vedrei pensiamo alle intersezioni faccio così che magari quattro dita ok ogni dito interseca questo foglio e quindi cosa dà vita una sorta di cerchio vedrei quattro cerchi indipendenti per me sono separati in realtà non sono indipendenti fanno parte della stessa mano sai quel concetto che c'è in molte religioni che in realtà noi siamo parte di un'unica cosa e Dio è noi questo è il concetto noi ci vediamo separati vediamo tanti cerchi ma in realtà siamo tutti parte di questa mano qua certo wow molto suggestiva come cosa ed è vero che richiama esattamente beh penso molto lo si vede molto nel taoismo questo nello stesso simbolo dello ying e lo yang che rappresentano un dualismo che è solo apparente perché tu vedi il bianco e vedi il nero che sembrano due cose distinte ma lo ying e yang con questi bianco e nero che si intersecano e nella parte bianca c'è un po' di nero e nella parte nera c'è un po' di bianca rappresenta il fatto che in realtà siamo un tutt'uno siamo quindi noi potremmo dire che uscendo un po' dalla fisica ed entrando nella metafisica noi potremmo ipotizzare che ci siano diverse dimensioni che vanno oltre alla terza dimensione in queste altre dimensioni possono vivere degli esseri senzienti d'accordo che sono visti dalla nostra prospettiva sono appunto onniscienti sono di sicuro più grandi rispetto a quello che possiamo comprendere e quindi potrebbero esistere sia questi esseri multidimensionali ecco non so come altro definirli e allo stesso tempo potrebbe esistere anche un essere il dio creatore che per noi sarebbe come un dio che sarebbe esatto ma potrebbe anche esistere l'idea che sarà la base di tutti i monoteismi quella di un essere creatore che ha creato poi tutto quanto esatto infatti allora ti dico questo è un campo è sempre un campo molto delicato perché quando si aprono questi argomenti in genere ci si divide sempre in due fazioni ci sono quelli ah allora è vero che esistono che esistono gli alieni che ci rapiscono oppure allora è vero che ci sono si parla di tutti i tipi no calma non stiamo dicendo questo cioè dobbiamo sempre rimanere su delle basi concrete altrimenti è vero tutto però dall'altra abbiamo anche gli iper scettici parlo soprattutto di non solo di scienziati gli iper scettici dicono ah no no non esiste nulla non esiste calma calma lo dico a entrambe le parti sappiamo ancora pochissimo anzi quasi nulla quindi sono spunti di riflessione non voliamo troppo con la fantasia ma neanche cominciamo a dire ah no non può essere nulla di tutto questo io purtroppo ce l'ho molto alcuni miei chiamiamoli colleghi non sono veri colleghi ma che vanno anche in televisione che vogliono mandare quest'idea che lo scienziato sia un ateo convinto lo scienziato dovrebbe essere agnostico che è un'altra cosa cioè lo scienziato non ha le risposte e quindi dice io posso parlare di quello che conosco punto però non è che posso venire a dire a te cosa devi credere cosa devi non credere perché io ne so quanto te non lo so che si c'era dopo la morte è un problema duplice da un lato è un problema di riduzionismo eh sì nel quale io riduco la realtà solamente a ciò che io riesco a comprendere della realtà a ciò che io riesco a conoscere ma la realtà può essere infinitamente complessa e quindi Dio stesso può essere per me semplicemente impossibile da comprendere o da percepire non per questo non esiste quindi c'è un primo problema di riduzionismo c'è un secondo problema di umiltà epistemica nel senso che ci sono persone che equivocano l'idea di essere un buon scienziato con l'idea di essere qualcuno che ha la risposta pronta per qualsiasi cosa e questo è il problema cioè magari non esiste niente può essere che abbia ragione chi non ci crede può essere ma il problema è che non ho delle prove cioè nel momento in cui io dico tu credi in Dio no Dio non esiste cosa ti sto dicendo che allora io credo in un non Dio e allora dove è la differenza tra me e te crediamo in qualcosa che non possiamo provare in realtà nessuno dei due io credo in un in un non Dio tu credi in un Dio e sostituire Dio a un altro Dio alla fin fine è un atto di fede è sempre un atto di fede l'atteismo è un atto di fede assolutamente sì ora non me ne abbiano quelli che magari si io ne conosco cioè lavorando anche nell'ambiente cioè non sto dicendo che ha torto una parte o ha torto l'altra sto dicendo che bisogna avere delle vedute un po' più elastiche perché conosciamo talmente poco che non possiamo avere l'arroganza la presunzione di dare delle risposte ancor meno di imporre queste risposte a chi crede all'altra cosa questo vale per entrambe le parti ma io credo che quello che stai dicendo tu non sia offensivo in nessuna maniera sia anzi un richiamo a quello che la scienza la vera scienza deve essere e la scienza per poter progredire deve essere in grado di conoscere con grande precisione le aree di conoscenza e le aree di non conoscenza non a caso Socrate insomma uno dei pilastri del nostro modello occidentale basava il suo il suo sapere sul fatto di sapere di non sapere per cui fondamentalmente Socrate veniva considerato l'uomo più saggio al mondo e quando Socrate gli venne detta questa cosa che l'oracolo di Delphi si era pronunciato aveva detto tu sei l'uomo più saggio al mondo per Socrate partì un periodo di ricerca personale per cui non si riteneva più saggio rispetto agli altri e lui quindi impiegò qualche anno insomma per cercare di capire che cosa lo rendesse saggio e alla fine lui giunse alla conclusione e lui disse guarda io non ho trovato nulla che mi renda l'uomo più saggio al mondo però se non altro mi sembra che io mi rendo conto del fatto di non essere saggio attorno a me sono circondato da persone che invece hanno le idee che sembrano avere la risposta su tutto poi nel momento in cui tu fai loro delle domande il famoso metodo socratico la maieutica tutto crolla quindi diceva Socrate se non altro io mi rendo conto di essere ignorante infatti infatti questa è un po' la cosa siamo ignoranti veramente perché se un filosofo mi sente dice vabbè ma tu hai fatto la scoperta dell'acqua calda lui diceva già Socrate non solo lui però a livello più ampio quanti conoscono la filosofia quindi assolutamente no ma poi a livello unirle le discipline non separarle ma poi ripeto come dicevi tu nel mondo del dibattito pubblico ci sono persone che ammantate da questo mitologico velo dello scienziato che però talvolta veramente diventa una superstizione si sfocia nella superstizione nel momento in cui hai a che fare con persone che vogliono far credere che la scienza dia o possa dare delle risposte a cose per le quali invece la scienza in questo momento non ha una risposta esatto cioè poi lo ripeto non bisogna cadere nella trappola opposta allora di voler credere a tutto a occhi chiusi perché allora gli diamo poi spazio alle assurdità appunto più estreme però se io voglio fare ricerca scientifica la ricerca scientifica è questo pensiamo Einstein non credeva ai buchi neri e poi alla fine invece sembra che ci siano proprio esistano non credeva neanche alla meccanica quantistica il famoso detto Dio non gioca a Dali esatto invece sì invece le cose tornano funzionano quindi la ricerca scientifica il progresso scientifico è sempre stato così allora come mai ci sono alcuni colleghi che già basta sembra che hanno quell'atteggiamento del 700 non mai del 700-800 ormai la fisica ha spiegato quasi tutto altre due o tre formulette abbiamo spiegato come funziona l'universo ciao no non è così la quantistica infatti ha rovesciato il discorso basta fermiamoci a quello che sappiamo dopodiché le altre domande potrebbe essere così però alla fin fine è un po' presto per dare la risposta certo certo che cos'è la teoria delle stringhe è una tra gli argomenti che abbiamo trattato io in maniera appunto molto hobbistica artigianale sono riuscito un po' a farmi un'idea grosso modo di che cosa significhi anche ascoltando divulgatori eccezionali come te perché hai veramente una capacità divulgativa di altissimo livello l'unica cosa che non sono ancora che branco ancora nel buio è proprio la teoria delle stringhe c'è un modo esiste un modo per provare a spiegarla sì allora quel discorso delle particelle che ti dicevo prima no l'elettrone ad esempio fin tanto che non vai a cercarlo a misurarlo occupa tanti punti contemporaneamente con probabilità di occupazione diversa ma comunque sta contemporaneamente in tutti quei punti allora per spiegare questi comportamenti e non solo questi una delle teorie che però va per la maggiore perché le teorie ce ne possono essere tante poi bisogna vedere se gli esperimenti vanno a favore di una o di un'altra questa regge è che queste particelle siano delle vibrazioni vibrazioni energetiche chiamiamole così adesso dovute come a delle stringhe immaginiamo delle stringhe no dei piccoli fili in base a come vibra questo filo dà vita a un tipo di particella se vibri in un certo modo verrà fuori mettiamo l'elettrone se vibri in un certo modo dovrà andare anche particelle ancora più piccole ma va bene insomma ok e così via quindi in base alla vibrazione può essere una particella piuttosto che un'altra questa la sto semplificando molto certo la teoria delle stringhe ha bisogno di alcuni supporti per funzionare uno di questi l'abbiamo accennato prima è l'esistenza di dimensioni spaziali microscopiche ulteriori dimensioni spaziali oltre alle tre che conosciamo classiche che però sono microscopiche quindi servono a livello microscopico ma a livello marcoscopico non ci sono né possiamo neanche percepirli ovviamente questo perché perché ad esempio alcune stringhe per funzionare bene cioè per dar vita a vibrazioni che poi possono dar vita a quel tipo di particelle devono avere forme semplifico molto perdonatemi ancora certo mettiamo pure che tu devi fare in modo che la stringa si chiuda no sì nelle tre dimensioni spaziali non ce la fai metti una quarta dimensione spaziale microscopica ora ti è possibile chiuderla e puoi avere la vibrazione che serve certo certo sì mi rendo conto che è un concetto estremamente complesso ma quindi secondo la teoria delle stringhe è corretta l'affermazione per cui la realtà sarebbe essenzialmente composta da vibrazioni sì sì anche qui molto semplificando però sì vibrazioni sì possiamo vederla in questi termini cambia la vibrazione cioè parti da una stessa cosa che la stringa ne cambia la vibrazione e ottiene risultati diversi certo per quello che riguarda le missioni spaziali che sono state fatte sono stati girati anche tanti film le missioni Apollo mi sembra che si chiamassero ce n'è qualcuna che in particolare ti ha diciamo affascinato c'è qualche storia in particolare che riguarda le missioni che in qualche maniera ti ha colpito allora le missioni spaziali io amo molto la fantascienza di scoperta misteriosa sulle missioni spaziali affascinano mi piacciono molto quelle che vanno verso l'esterno quindi nella fascia di Kuiper quindi oltre Plutone perché c'è ancora un po' da capire per carità anche dell'interno c'è da capire però quelle mi piacciono molto devo dire che però mi è molto mi è molto piaciuto la vicenda dell'Apollo 13 raccontata poi nel film di Tom Hanks il modo in cui ci si è dovuti ingegnare per riuscire a salvare quegli uomini perché spiegaci un po' cos'era successo qual era la situazione loro dovevano andare allora dovevano andare sulla luna la missione 13 la 11 è quella dove era sbarcato Amazon sulla luna sembravano mai diventata quasi una routine andare sulla luna invece no scoppia un serbatoio e praticamente questo cambia la velocità più che la traiettoria forse è proprio la velocità che cambia della missione e quindi il loro rischio era che andassero oltre la luna ok dovevano tornare indietro come fare a tornare indietro perché il rischio è che andassero oltre perché fondamentalmente loro per fare il giro attorno alla luna si basano sulla forza di gravità della luna quindi se la spinta è troppo forte una spinta che non ci doveva essere rischi di andare lungo ok allora facendo i calcoli a terra si sono dovuti ingegnare per far sì che facessero un giro intorno alla luna e questo gli desse è a velocità giusta per essere riscagliati verso la terra certo con energia che stava scarseggiando quindi hanno dovuto spegnere la corrente elettrica a un certo punto rischiando di gelare all'interno con poi il filtro uno dei filtri di purificazione dell'aria che andava cambiato ma non c'era il ricambio hanno dovuto costruirselo loro con quello che avevano lì nella capsula e da terra hanno dovuto in tempo reale quasi inventare queste soluzioni e poi comunicargliele fu una cosa pazzesca il film è fatto è molto bello poi chiaramente un po' romanzato però a me è piaciuto molto perché dà proprio l'idea di come l'uomo nei momenti critici sappia tirar fuori il meglio di se stesso io mi vengono i brividi ad immaginare cosa si possa vivere dentro quella navicella no? sei in quella navicella e sei che stai correndo il rischio di mancare l'orbita lunare di andare all'infinito nello spazio avere anche il sangue freddo perché ma questo è un altro dei fattori ed è ancora sotto studio stare in uno spazio ristretto tre persone arriva un momento critico come questo e se uno va fuori di testa può capitare è una delle cose che si studiano prima di partire con la famosa missione su Marte ci sono problemi tecnici ancora ma anche psicologici che vanno superati ovvero un po' più di certezza a riguardo ci saranno immagino la NASA si doterà di tutta una serie di metodi di test da fare alle persone per cercare di capire proprio come possono sopportare una situazione di questo tipo c'è stato qui in Europa un esperimento dei 500 giorni proprio messi in una piccola capsula per 500 giorni a terra 500 giorni vuol dire un anno e mezzo cos'è? per simulare sì per simulare appunto come ci si comporta tutto un tempo così prolungato in uno spazio ristretto una specie di grande fratello però uno spazio può essere questo è un grande investimento anche da parte di chi decide di partecipare di fatto dedichi un anno e mezzo della tua vita a stare quindi immagino che però se superi quel test avrai la quasi certezza poi o una probabilità molto alta di poi andare veramente nello spazio potresti essere te o quantomeno sei uno di quelli che ha aperto la strada quanto siamo distanti dalla missione su Marte? credo un'altra ventina d'anni ok perché uno dei problemi principali è la schermatura delle radiazioni solari che ce l'abbiamo sì però una cosa è la stazione spaziale dove ci stai sei mesi poi torni a terra un'altra cosa è sei mesi qualche mese lì devi fare sì minimo sei mesi di andata un mese di permanenza altri sei mesi di ritorno non c'è la certezza di avere schermature adeguate ok poi anche bisogna portare il materiale giusto e non c'è spazio per tutto quanto c'è un mal di denti ho il necessario per curarlo non è che posso mettere di tutto in quello piccolo spazio anche la missione su Marte stessa cioè costruire la prima base permanente ma non è banale perché devo portarmi i pezzi dietro insomma o comunque devo mandarci di prima con altre con altre spedizioni senza uomini a bordo io direi che siamo tra il 2040 e il 2050 ok cosa ne pensi di Elon Musk è come tutti quelli che hanno i soldi può fare un po' quello che gli fa ma allora non ne penso né bene né male cioè nel senso che come tutti coloro che che hanno grande visibilità poi se ne dicono di tutti i colori certo io al di là di quelli che possono essere gli aspetti negativi ho comunque ammirazione per chi ha avuto la fortuna di fare tanti soldi ma oltre gli yacht oltre alle feste mondane oltre andare in televisione a parlare di del nulla gli investe anche per cose che possono avere un'utilità sociale ma anche per l'intera umanità quindi apprezzo che personaggi come Elon Musk si buttino in questo campo apprezzo che Tom Hanks non fa solo Apollo 13 ma poi mette i soldi per produrre una serie che c'è stata qualche anno fa su tutte le missioni Apollo una serie tv in Italia non l'hanno mandata io l'ho visto in dvd e com'è bella come si chiama non mi ricordo però è tutta la storia bella documentata capisci che in Italia non è che abbiamo tanti di questi personaggi certo per carità anche meno soldi però accidenti cioè vabbè non facciamo nomi però un minimo un minimo di impegno chi ha i soldi se lo può permettere fate fate anche queste cose rischiate potete tanto cadere in piedi rischiate piuttosto che andare l'ennesima serata in tv nazionale a parlare sempre del nulla fate anche lanciatevi è un bel appello hai nominato più volte la fantascienza il fatto che ti piaccia quali sono le opere di fantascienza che ti piacciono di più allora io sono cresciuto ho uno spazio 1999 serie tv mandata in onda coproduzione RAI quando la RAI faceva ancora le coproduzioni ne ha fatta anche una recente ma non è dello stesso livello dove la luna esce dall'orbita e quindi gli abitanti della base lunare si ritrovano nello spazio non hanno controllo sulla luna quindi dove vanno vanno e la prima serie perché ci furono due serie bellissime BBC RAI la coproduzione è bellissima perché si scontrano si raffrontano con i misteri dell'universo buco nero che all'epoca lo chiamavano sole nero tra l'altro neanche ancora buco nero ok qual è lo scopo della vita c'è qualcosa oltre la vita quindi temi molto importanti in ogni puntata poi quello che mi ha fatto appassionare della fantascienza poi mi è molto piaciuta anche la prima serie le prime serie di Star Trek quella del capitano Kirk non mi è mai piaciuta la parte politica di Star Trek quella dove devono fare gli rapporti diplomatici quella la vedo come una cosa più terrestre invece molto molto belli alcuni episodi dove loro provano a esplorare pieni di sconosciuti e nuove forme di vita e guerre stellari allora io faccio facciamo lo special a guerre stellari planetario lo porto in giro ma sai che io sono il primo film guerre stellari che sono andato a vedere fu il terzo gli altri due non li avevo visti al cinema il ritorno dello Jedis e mi piacque tantissimo mi appassionai e tutto quanto mi sono poi rivisto i primi due film soprattutto il primo che noia mortale quindi è proprio questione di gusti diciamo che guerre stellari secondo me è l'elemento fantascientifico rispetto ad altri film passo un po' in secondo piano nel senso che una delle cose che generano più fascino in guerre stellari non è tanto l'elemento fantascientifico ma quanto il concetto di forza il concetto di Cavaliere Jedi il concetto di la lotta tra il bene e il male allora ti dico a me queste cose piacciono non è che non piacciono quello che non mi è piaciuto del primo film è proprio l'inizio lo trovo molto lento lei e la principessa non lo so non mi ha preso mentre il terzo mi aveva scioccato era il primo che vedevo mi avevo fantastico quello perché parte subito con l'azione il primo invece mi ha deluso forse proprio per questo forse avessi visto prima il primo film al cinema mi sarebbe piaciuto aver visto invece il terzo aveva un'aspettativa diversa io credo che sia stato quello sì anche perché credo che il modo in cui sia stato creato guerre stellari sia stato molto molto artigianale cioè nel senso aveva un'idea di massimo a George Lucas dopo di che strada facendo ha cercato di capire e quindi quando è arrivato al terzo film ovviamente aveva l'idea un po' più chiare resta comunque il fatto che secondo me in ogni caso il primo rimane comunque l'Everest rispetto agli ultimi sei quelli che hanno fatto dopo quindi a parte forse uno due che si si salvano a me di guerre stellari appunto neanche a me io li ho visti tutti anche a me non è se devo parlare del film di fantascienza che più mi ha colpito non c'è guerra stellari cioè l'elemento fantascientifico in guerra stellari pur piacendomi la fantascienza mi sono detto Asimov insomma i grandi classici i primi tre film mi sono piaciuti mi sono piaciuti i tre prequel gli ultimi tre che hanno fatto il primo degli ultimi tre a me è piaciuto molto ma proprio perché c'era un ritorno alle origini cioè il concetto di forza visto in maniera anche con un'aura quasi mistica i prequel hanno provato a scientificizzare il concetto di forza per cui i primi tre film fondamentalmente si diceva che la forza sia con te devi essere un tutt'uno con la forza senti la forza c'era anche qua si intrecciava in maniera interessante anche con alcuni concetti di filosofie più orientali piuttosto che occidentali insomma c'era un po' un aspetto un alone leggendario la cosa poi hanno fatto i primi tre i prequel che parlano di Anakin Skywalker da bambino e lì hanno iniziato a inserire l'elemento dei midi-chlorian e quindi questi strumenti che misuravano la quantità di midi-chlorian e quinti quanta il concetto che lì tanti fan sono rimasti un po' così però diciamo ha avuto ci sono stati dei bei momenti l'ultima trilogia è stata pazzesca perché il primo film dell'ultima trilogia quello girato da J.J. Abrams se non ricordo male aveva appunto questo ritorno alle origini dove è quest'ora leggendaria e poi il secondo è stata per me la più grande delusione cinematografica che abbia mai visto è stata un po' così e quindi e quindi questi il tema del viaggio nel tempo ti piacciono le opere di fantascienza che parlano di viaggio nel tempo? altro che ok altro che allora mi stai facendo pensare a qualche film che ho visto ma non mi viene in mente adesso c'era un film mi era piaciuto molto sui paradossi temporali comunque mi piace ho visto tanti poi ricordarmelo non me ne ricordo neanche mezzo ce n'era uno peraltro che avevo visto no ma non so il titolo molto quasi amatoriale che parlava di due ragazzi che riuscivano a creare questa macchina del tempo tutto girato con telecamere quasi amatoriali ma però molto bello ma il viaggio nel tempo è possibile da un punto di vista puramente teorico? allora no non si può andare indietro nel tempo secondo la relatività se esistessero i cunicoli si se esistessero si potrebbe tornare indietro nel tempo a livello teorico solo ma solo sino al momento in cui è stato creato creata l'apertura l'uscita di quel cunicolo cioè io mettiamo inventi oggi buco cunicolo uscita potrei tornare indietro risbucare dall'altra parte andando indietro nel tempo ma solo sino al momento in cui ho creato questo primo buco non prima di quel momento ok quindi se ipoteticamente inventassimo il modo una tecnologia per viaggiare nel tempo non potremmo andare a vedere l'epoca degli antichi romani no se non c'era l'ha già aperto si potrebbe ritornare al massimo al giorno e però così facendo si creerebbero poi degli universi paralleli e ritorniamo appunto che non si sa esattamente molto molto affascinante ma com'è che hai iniziato a parliamo un po' di te quando è che ti sei diciamo innamorato della disciplina e hai deciso di diventare un astronomo allora come ti dicevo da piccolo guardavo appunto il telefilm appunto spazio 1999 più anche i film di fantascienza che mandavano in onda le tv locali di Roma sono di Roma quindi c'erano le tv romane che riempivano i paninsessi con questi film e mi facevano sempre paura un po' ma anche mi affascinavano e io fin da piccolo dissi voglio studiare avere a che fare con queste cose da grande quindi fu un percorso che ho avuto chiaro fino a sei anni sei sette anni e però ho continuato questo percorso e infatti è motivo per cui a me piace la fantascienza quella dove si esplora il mistero non la fantascienza appunto fantasy ecco quella non mi dice più di tanto perché lo mi è piaciuto molto Interstellar un film che mi è piaciuto tantissimo anche se non è nello spazio Inception sempre di Nolan è uno dei film dei film recenti preferiti nel passato poi ci sono altri film che mi hanno colpito però per dirti sto pensando 2001 di San Nero Spazio è molto bello però è anche pesante questo mi rendo conto soprattutto per chi è piccolo dal punto di vista della regia dici? e beh per sai quando sei 8, 9, 10 anni se te lo fanno vedere però non è che capisci molto poi è anche lento molto lento all'inizio quindi finché magari apprezzi più da adulto se ti piacciono poi quelle tematiche sì però io vedevo i film quelli degli invasori marziani robot che cominciavano a distruggere le città mi facevano una paura tremenda però nello stesso tempo mi affascinavano sì per quello che riguarda Inception Inception è un film che è sempre piaciuto tantissimo anche a me beh ma scusa X-File lo guardavi? sì lo guardavo il problema di X-File è che avevi belle puntate e puntate che erano proprio americanate di quelle quindi però le prime serie mi piacevano è stato un cult incredibile poi è andato pian piano a scemare sempre di più perché sono venute meno anche le idee degli autori probabilmente ho rivisto il sequel fatto più di recente io non l'ho visto ho visto i primi due puntate e ho detto vabbè ce l'ho capito lasciamo stare non ce n'è ma visto che hai parlato di Inception ti ricordi il finale di Inception quando c'è la trottola che gira? qual è la tua? perché lì i fan sono c'è la grande spaccatura tra chi pensa che la trottola cadrà e quindi significa che lui vive nella realtà e chi invece pensa che lui viva in un sogno tu come la vedi? allora io ho fatto un bel po' di ricerche in rete quindi abbiamo la risposta ufficiale allora sembra sembra che l'idea di Nolan è che viva nella realtà ok quindi dovrebbe essere realtà però hanno deciso di lasciare il dubbio perché così è forse anche più bello così il finale secondo me però sì perché ti lascia anche te il dubbio e quindi ognuno poi ci riflette sopra però dovrebbe essere quella che è nella realtà mi piace che rimanga il dubbio perché scusate il gioco in realtà stavo dicendo perché in effetti la realtà è anch'essa un sogno se ci pensiamo bene perché ognuno la può vedere in modo diverso la realtà io non posso sapere tu come stai vedendo me come vedi quel microfono quello che noi qui chiamiamo questo cos'è? Murosa lo chiamiamo rosa per convenzione magari tu lo stai vedendo verde però lo chiami rosa per convenzione certo quindi questa è la prima cosa seconda cosa noi come interpretiamo la realtà? ci arrivano degli stimoli dall'esterno e poi il cervello però che elabora gli stimoli cioè non c'è una realtà oggettiva arriva qualcosa dagli occhi e il cervello elabora l'immagine stesso con il sonoro però ogni cervello può elaborare in modo differente le cose quindi possiamo avere visioni molto diverse della realtà senza che ce ne rendiamo conto certo diciamo che sebbene esista una realtà oggettiva dal punto di vista percettivo la realtà è sempre soggettiva eh sì primo poi secondo se io rimango bloccato in un sogno un po' come nel film per me il sogno in quel momento è reale e chi mi dice che perché quello dovrebbe essere meno reale di quello che vivo adesso che sono sui e poi chi mi dice che non sia sveglio quando in realtà sto sognando cioè è il cervello se il cervello mi dice che quella è la realtà per me è la realtà appunto e sono sveglio questo era il grande dubbio di Cartesio torniamo sempre poi a dire che Cartesio lui per costruire diciamo la sua ricerca della verità per Cartesio passa da questo lui dice di che cosa posso essere certo e dice di fatto di quello che vedo non posso essere certo di nulla perché potrebbe essere un sogno potrebbe esserci un demone che mi sta facendo vivere all'interno di un sogno perché quando io sogno non mi rendo conto di star sognando per cui che cosa è reale e lui dice beh sicuramente io sto pensando a queste cose quindi sicuramente ci sono io che penso e quindi da lì nasce poi il cogito ergo sum che poi da lì nasce poi tutto l'illuminismo il metodo scientifico non trova le sue le sue radici lì un'altra cosa che mi ha sempre affascinato tanto è questa che nel momento in cui noi guardiamo osserviamo con un telescopio un pianeta d'accordo che si trova a 5 milioni di anni luce rispetto a dove viviamo noi noi non stiamo vedendo adesso il pianeta com'è lo stiamo vedendo com'era 5 milioni di anni fa quindi linea puramente teorica a me è una delle ipotesi fantascientifiche che mi piace questa linea puramente teorica se immaginiamo una civiltà che vive a milioni di anni luce da noi e che abbia sviluppato uno strumento ottico talmente potente di riuscire a vedere quello che sta succedendo sul nostro pianeta potrebbe paradossalmente avere la raccolta e tutte le informazioni di ciò che c'è stato nel passato e visto che tu parlavi di realtà è anche vero se è vera questa cosa è vero che nessuno di noi in realtà percepisce il presente cioè non sto vedendo tu per come sei adesso io vedo il tuo passato quindi da un punto di vista di proprio di di tempo presente noi in realtà non siamo in contatto solamente come dire con il passato è giusto definire è un passato estremamente il presente in realtà non esiste perché sì nel momento in cui io penso al presente è già passato esatto o forse esiste solo il presente non esiste e poi c'è la teoria che dice che in realtà il tempo è un insieme di istanti tutti coesistenti e della mente a dargli un ordine cronologico sostanzialmente quindi di nuovo la realtà che viene a essere solo un'interpretazione della mente molto affascinante perché si sovrappongono elementi scientifici elementi metafisici elementi psicologici elementi filosofici la conoscenza e se si parla in ambito scientifico di teoria del tutto io credo che anche in ambito di filosofia personale tanti di noi siano alla ricerca di una teoria del tutto cioè qualcosa che in qualche maniera tenga insieme tutte queste cose che ci racconti un po' degli eventi che fate al planetario allora sì il planetario è un planetario di 9 metri cioè c'è una cupola di 9 metri diciamo che i vecchi planetari quelli analogici permettevano di proiettare e quindi simulare la volta celeste qualche figura di costellazione e non molto altro adesso questi nuovi digitali si proiettano filmati di tutto e di più quindi abbiamo sia gli spettacoli quelli li chiamiamo standard di apertura al pubblico ordinari dove abbiamo prima mezz'ora un argomento spiegato dal vivo può essere il sistema solare i buchi neri le costellazioni e la seconda mezz'ora un filmato anche quei filmati differenti per tutte le età e il totale dura un'ora poi abbiamo anche gli speciali che mandiamo spesso venerdì o sabato sera come appunto l'approfondimento su film interstella l'approfondimento su guerre stellari tra l'altro quello su guerra stellari è molto divertente perché andiamo proprio a spulciare le cose più strane accadute durante anche le riprese e così via ok quindi insomma poi abbiamo anche eventi con musica per dire dove magari si suona musica può essere musica classica abbiamo un pianoforte può essere adesso dobbiamo fare un evento con i Beatles cioè una band che suona i Beatles sempre legata a proiezioni a spiegazioni astronomiche quindi i planetari digitali permettono una diversificazione dell'offerta notevole devo omettere si può vedere sul sito del planetario che è planetariopadova planetariopadova.it qui parliamo ovviamente per chi è qui della zona chiaramente per chi viene da altre zone d'Italia se venite in gita a Padova approfittate altrimenti cercate il planetario più vicino a voi poi ogni planetario ha una realtà diversa però vale la pena visto che hai parlato di musica classica come mai la musica classica si sposa così bene con le immagini dello spazio te lo sei mai chiesto? allora devo dire una cosa tra le band che sono venute a suonare noi non è che facciamo tanti di queste offerte perché c'è un lavoro non da poco da farci sotto una band che ha suonato i Muse che si ispira a Muse una rock band che si ispira anche a temi spaziali e anche quelli legavano molto bene devo dire per quanto sia musica rock qualche accenno anche al rock progressivo però la musica classica ha qualcosa di diverso non ha il ritmo né il fragore sonoro del rock ma neanche del pop quindi sei in uno stato di rilassamento che non riesce ad avere l'altra musica ti gasa con la musica classica sei molto più rilassato è anche vero che ci sono dei generi musicali l'ambient su tutti l'elettronica che possono ottenere degli effetti molto simili però la musica classica non lo so secondo me io non sono un amante della musica classica vorrei dire però devo ammettere che ti mette in uno stato di ascolto e di meditazione che si sposa molto bene con il poi guardare immagini astronomiche o sentire concetti astronomici funziona anche con gli altri generi funziona anche con la classica però certo diciamo che parli del tema sono musiche che aiutano il rilassamento credo che ci sia anche un altro aspetto che sono musiche che hanno una elevata complessità sì perché rispetto alla musica pop dove c'è un ripetersi molto banale magari un brutto termine però semplice ecco la musica classica è una musica che ti predispone alla complessità esatto guarda stavo proprio per dirlo con la musica rock per quanto sia fatta bene bella però tu hai quello cioè tu stai ascoltando quella musica pum 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 quello che sono le battute e così via la mente è così con la musica classica complessità pianoforte note la mente è così cioè si predispone a essere più aperto proprio quindi è una cosa naturale sia chiara anche qui poi c'è chi dirà sì anche queste sono cose già note però sì funziona funziona sì e c'è una relazione molto forte tra lo stato della mente e la capacità di relazionarsi in qualche maniera con l'universo e con i suoi misteri no non è un caso che tante persone ad esempio che fanno esperienze di natura meditativa piuttosto che contemplativa che riescono cioè ad entrare in uno stato di coscienza molto diverso rispetto a quello ordinario spesso parlano di universo cioè parlano di persone che magari non sono astronome ma c'è un ritorno molto spesso al tema del sentirsi in qualche maniera in contatto in connessione con il tutto e questo tutto viene spesso chiamato universo sì esatto al di là adesso di tutte le questioni che possono essere gli inganni della mente che assolutamente ci sono non ci mancherebbe e tutto quanto però quando stai in uno stato di rilassamento tu mi hai sentiti a sentirti più parte del secondo me del mondo naturale in pratica cosa che noi non facciamo se ci pensi nella vita di tutti i giorni perché devi vestirti devi andare al lavoro e c'è da fare quello e quell'altro non ti rendi conto che tu rimani pur sempre un uomo un animale che sta all'interno di un mondo molto più ampio e complesso che la natura e la terra certo quando ti metti in uno stato meditativo non solo ti senti più in condizione con tutto il resto ma cominci forse anche a fare dei ragionamenti che vanno oltre quello che è il quotidiano e ti prendi il tuo tempo per ragionarci per vivere questi ragionamenti ma se non sei in quello stato con la vita frenetica che facciamo a giorno d'oggi in particolare certo tu parli di inganni della mente ed è corretto tra i vari inganni della mente c'è il concetto di bias che sono i veri propri errori cognitivi ma io credo che ci sia anche un altro grande errore grande tranello della mente che è proprio lo stato ordinario di coscienza cioè la nostra vita ordinaria ci spinge ad agire a fare a vivere con dei ritmi che in qualche maniera hanno l'effetto di chiudere le nostre facoltà cognitive che hanno l'effetto di chiudere molto spesso la nostra apertura mentale e se come abbiamo detto perfino la scienza necessita di una grande apertura mentale quindi l'apertura mentale non è solamente per il compositore per l'artista ma l'apertura mentale è quella facoltà utile a ciascuno di noi per andare a vivere una vita migliore rispetto a quella che sta vivendo a capire esatto la chiusura che dici te io credo che sia proprio insita in noi a livello naturale perché se non ci fosse immagina se non ci fosse proprio noi dovremmo allora passare la vita non più a fare a costruire ma a chiederci ma che ci siamo a fare qui se poi devo morire no noi la razza umana si estinguerebbe esatto invece questo chiudere è come dire non disperdiamo le energie concentriamoci su le cose da fare però qui adesso si apre un altro discorso ma perché l'uomo deve fare perché l'uomo deve cercare di capire gli altri animali non hanno questo problema vivono e basta perché solo l'uomo è l'unico animale che ha questo impulso ci sarà pure un motivo poi chi dice no non c'è nessun motivo vabbè ma se non c'è nessun motivo chi te lo fa a fare andare al lavoro prendi dei soldi vatti a godere alle maldive la vita e basta certo invece no noi abbiamo questo impulso naturale come se ci fosse una strada che dobbiamo seguire quindi tutto sommato questa chiusura a sua volta sembra che abbia uno scopo certo è che però la strada che seguiamo le volte forse come stavi dicendo non è proprio quella giusta e non è che la vita deve essere solamente accumulare soldi prendersi di vestito migliore evidentemente siamo fatti non foste per vivere come bruti unesima citazione ma per seguire virtù e conoscenze però accidenti sì se non è vero che sono le cose beh anche perché sono le cose che poi danno significato l'esistenza perché un'altra cosa che rende l'essere umano diverso dall'essere animale è il bisogno fondamentale di un significato profondo per il suo agire l'animale non ha bisogno di un significato l'animale fa vive secondo quelli che sono i suoi istinti se tu togli all'essere umano il significato puoi anche riempirlo di soldi e lo si vede dalle vite tragiche di tante rock star piuttosto che ereditari che nel momento in cui manca l'elemento del significato l'essere umano collassa proprio si accartoccia su se stesso io credo che dal punto di vista di biologia evoluzionista diciamo il ragionamento di che fai tu quello che noi dobbiamo chiudere la nostra mente perché altrimenti come dire staremmo immobili non faremmo niente durante tutta la giornata perché appunto i nostri dubbi sarebbero talmente tanti che noi non faremmo niente è vero io credo che l'essere umano si contraddistingua per questa necessità di dover costantemente calibrare se stesso cioè tu non puoi vivere né con una mente che è solamente apertura perché altrimenti non fai niente non ti alzi neanche dal letto alla mattina probabilmente ti apri gli occhi e dici perché perché sono qui e perché ecco allo stesso tempo cosa succede che la società poi punta ad instradarti a darti un lavoro a darti un ruolo sociale e pian pianino il tuo orizzonte si chiude però arriva ad un certo grado questa chiusura per cui diventa disfunzionale esatto non è più utile e quindi devi imparare a aprire infatti è uno dei motivi per cui adesso non vado uno specifico perché non voglio creare polemiche che non hanno senso una cosa che mi dà molto facile di questi ultimi anni è che per ogni idea non so modo di vivere o altro ti venga data una sigla ti mettono in quella sigla facci caso quindi fai parte di quelle tac 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 quelle letterine anche io sono me stesso perché devo essere inserito in questa sigla in questa categoria questo è un chiudere assolutamente così non è chiudere così questo è per chiudere così questo è chiudere così io sono me stesso e basta è vero è questa che dici tu e questo è uno dei grandi temi moderni però è anche un modo per controllare le masse beh adesso entriamo adesso non sto entrando nel complutismo sei chiaro adesso sono più cose quelle che vengono studiate in sociologia le società cioè non è che c'è per forza quello cattivo che controlla le società per reggersi ha bisogno di questi controlli sì ma allora diciamo che c'è anche chi lo fa in maniera consapevole nel senso che voglio dire ma banalmente la politica si muove cerca di approfittarne in maniera molto sciocca poi la politica che cosa fa ti divide in maniera perché perché se ti divido in gruppi è più facile come dire circoscrivere un elettorato sono tecniche di marketing niente più niente di meno e ci sono dietro a queste sigle dietro a questo divisionismo c'è un ci sono delle cifre dei soldi enormi sono funzionali alla manipolazione ma questo è non serve essere complottisti serve semplicemente andare a guardare la realtà avere una capacità di analizzare la realtà in maniera sana ecco a me quello che da fastidio è l'esasperazione che c'è stata negli ultimi anni questo sì cioè si può fare sì è giusto perché funzionano così le cose ma si è troppo esasperato e allora vuol dire secondo me non avere più tanto rispetto per il cittadino per la persona comune poi siamo tutti persone comune anche chi ci comanda o chi è in opposizione uguale cioè se lì si è pagato devi far funzionare il paese non devi stare lì a fare polemiche certo credo che sia uno dei grandi temi del futuro anche perché è una macchina di produzione dell'odio perché di fatto quello che succede è che ti appunto ti etichichi faccio in maniera tale non solo di essere io ad etichettarti ma faccio in maniera tale che siano le persone ad etichettare se stesse per questo bisogno che viene probabilmente dalla nostra epoca più tribale di sentirsi parte appunto di una tribù e in questa maniera metto contro una tribù rispetto ad un'altra e se tu guardi i modi anche di affrontare le questioni sociali sono spesso modi che alla fine gira che ti rigira sono dei modi diversi di generare odio per cui io genero odio verso qualcuno cioè c'è un problema bisogna trovare la soluzione ognuno dire la propria ci si confronta e si trova la soluzione ma la soluzione non è dire guarda c'è quel problema tu hai detto quello no tu sei un idiota avete sentito cosa ha detto lui avete sentito oh ragazzi il problema sta ancora lì sbrighiamoci sì purtroppo la grande problematica qui è legata al fatto che chi si occupa ad esempio di media sa benissimo che il modo più rapido per ottenere attenzione e quindi fatturato perché poi l'attenzione corrisponde a quello non è altro che quello di stimolare i sentimenti di rabbia di indignazione e noi come società non abbiamo ancora quel grado di evoluzione per rendere questa cosa illegale cioè a mio avviso bisognerebbe raggiungere come società a dire che ad esempio se tu sei una testata giornalistica tu sei categorizzata secondo quel codice a te colì bene ci sono delle linee guida che tu hai nel presentare la notizia che devi rispettare altrimenti non puoi svolgere quel lavoro lì tra queste linee guida c'è il fatto di non sensazionalizzare cioè bisognerebbe lavorare proprio per creare mentre oggi quello che succede è che se tu apri un quotidiano un telegiornale vieni inondato appunto da queste da queste tentativi di in qualche maniera condizionare i tuoi comportamenti in maniera poco sana ecco sì e vale vale anche per la divulgazione astronomica purtroppo negli ultimi anni c'è stato proprio un crescere di titoli notizie che sono delle fake news evidenti ma date da testate che non sono cioè sono state che hanno un certo peso anche peso nel senso che hanno una certa importanza poi voglio vedere quanti sono che le vanno a leggere con un altro discorso certo però la super luna una delle notizie ricorrenti stasera ci sarà la super luna mai vista così gigante eh cavolate fake news la super luna ogni luna piena all'orizzonte la vedi grande perché c'è l'effetto ottico la moon illusion cioè quando tu hai la luna piena all'orizzonte ti sembra più grande di quando è un po' più in alta nel cielo è un inganno della mente anche questo solo che ogni volta che c'è ti dicono no la vedrai molto più grande perché è piena e alla minima distanza della terra come non lo era da secoli quindi vedrai una luna gigante così in cielo poi la gente guarda e dice sì mi sembrava un po' più grande beh sì aspetta un mese e la rivedrai uguale in effetti è vero che io mi confermi una sensazione che ho che in effetti a me questa super luna questa luna più grande sembra di vederla però abbastanza di frequente cioè capita ciclicamente sì perché poi uno giustamente dice ma come in un evento così raro una volta quasi una volta al mese due o tre volte all'anno mi viene forestato per luna sì perché in realtà basta una qualsiasi luna piena quindi una volta al mese vista all'orizzonte per avere lo stesso effetto certo ascolta per parlare un po' del vostro aspetto molto creativo oggi è San Valentino sì e quindi parliamo di questa cosa anche se in realtà è troppo tardi per promuoverla perché poi questo podcast verrà pubblicato dopo ma voi oggi fate un evento di San Valentino è corretto? sì sì abbiamo tra i vari eventi anche questo dove praticamente si parla di alcune delle cose che possiamo trovare cose insomma il romanticismo dello spazio allora faccio un esempio si viaggia si va su Marte c'è un cratere di Marte che sembra quasi un cuore no? quindi andiamo a spiegare un attimo cosa sono i crateri però facciamo sempre come dire un legame con qualcosa che sia molto romantico le costellazioni le storie romantiche sulle costellazioni che risalgono ai miti dei greci e così via poi questa è una sorpresa ma possiamo dire intanto questo andrà dopo venerdì questo venerdì ok allora se prenota uno dei due oddio è capitato anche che qualche volta venisse una persona o anche più di una persona l'amore di gruppo pazienza può essere però in genere sono coppie in genere puoi fare la sorpresa all'altro perché dando i nomi poi alla fine dello spettacolo proiettiamo sulla volta celeste del planetario i nomi delle varie coppie quindi in genere uno fa la sorpresa all'altro wow che bello adesso avessi saputo prima averi pronotato va bene beh allora no andavo di parlare di di chiederti di farti questa domanda perché mi piaceva sottolineare il vostro elemento creativo questa capacità che avete di voler unire una scienza un approccio rigoroso al mondo della scienza a a questo aspetto della divulgazione e volevo chiudere proprio con questa con questa domanda qua perché proprio da dove nasce se lo sai identificare o comunque perché hai questa spinta così divulgativa perché tu come dire sei una persona esperta ma ci sono tante persone tecnicamente esperte nei loro ambiti ma solo una una ristretta minoranza di queste sentono una spinta così proprio di di parlare di divulgare queste cose a persone che non sono esperte del settore da dove nasce? ma allora sicuramente c'è anche qualcosa di innato perché ognuno poi è portato per certe cose invece che per altre primo quando ero piccolo e quindi volevo approfondire questi argomenti ero pronto sempre ad ascoltare anche gli astronomi più delle volte mi venivo deluso perché non riuscivo a capire tanto quindi mi sarebbe tanto piaciuto qualcuno che spiegasse in maniera semplice le cose per farmele capire avendo passione per questo e poi mi è sempre piaciuta la comunicazione quella radiofonica infatti ho anche fatto in passato un po' di radio non a livello professionale comunque qui nei radio locali a Roma e qui a Padova e quindi la radio mi è sempre piaciuta e radio vuol dire saper comunicare perché non ha neanche le immagini quindi è tutto basato sulla voce sulle parole ci sono appena delle tecniche dei linguaggi radiofonici da rispettare e quindi unendo un po' queste passioni è venuto fuori poi questa professione inizialmente io non ero non sapevo cosa volevo fare cioè volevo sia fare ricerca a me piaceva fare ricerca sui pianeti sul sistema solare ad esempio dall'altra mi sarebbe piaciuto parlarne alla fine poi quando mi sono laureato ho preso questa strada ho detto allora mi dedico a tempo pieno proprio sulla divulgazione quindi però è qualcosa che avevo sempre dentro che ce l'avevi fin da bambino fin da bambino beh io ti ringrazio per questa tua attitudine divulgativa e divulgatrice perché aiuti persone che non sono addetti del settore come me ad aprire la mente alle meraviglie di questa bellissima disciplina che studi quando questo diventerà il podcast più famoso in Italia se lo vorrai sarai come dire un ospite sempre benvenuto per venire a raccontarci anche di future iniziative del planetario di Padova e quindi di cuore ti ringrazio è stato veramente un piacere è stato anche per me un piacere tra l'altro devo dire questo studio è meraviglioso veramente poi vedo già che c'è lo spazio per farlo crescere ancora di più quindi io penso che questo lavoro che stai facendo io sono andato a vedere qualche posso chiudere così sono andato a vedermi qualcuno dei tuoi video è un lavoro professionale non è un lavoro amatoriale mi auguro spero ovviamente questo sia evidente per tutti e che quindi questi podcast abbiano una visibilità perché io ho sempre pensato che il merito la professionalità vadano premiate in un'epoca negli ultimi anni ne parlavamo prima prima iniziare appunto la registrazione dove invece ci si butta sui social ormai i social ti dicono più pubblichi più ti guardano e più ti pago cioè il messaggio è pubblicare anche le stupidaggini basta che ti guardino in tanti cercare di ridare un messaggio che era quello che c'era all'inizio non conta pubblicare tanto conta quello che vuoi dire e quello che devi dire è il contenuto se non hai nulla da dire non farti il problema che devi pubblicare un video ogni tre giorni pubblicare una volta al mese non importa ma devi avere qualcosa da comunicare altrimenti siamo in un overload di informazioni un sovraccarico di informazioni che ci sta solamente facendo male non serve a nulla certo certo ti ringrazio ti ringrazio di nuovo è stato un piacere è stato un onore buon proseguimento ci sentiamo presto Luca Nobili signore e signore ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti